Giornata nazionale della legalità edizione 2021 al comprensivo Santa Lucia, venerdì 19 marzo alle 10. Anticipata il 19 marzo la giornata in ricordo di tutte le vittime della mafia e di quelle sacrificatesi per il valore della legalità. La scadenza del 21 marzo e quest'anno ricorre ai domenici anticipati a venerdì è un momento di riflessione, approfondimento di incontro, di relazioni vive e di testimonianza attorno ai familiari che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricuscire costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle vittime. È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire al fine di porre al centro della riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale primario alla verità, diritto che appartiene alla persona vittima e ai familiari della stessa ma anche a noi tutti. E' altresì il momento in cui dare spazio alla denuncia della presenza delle organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e massoneria deviate. Venerdì 19 marzo alle 10 presso l'Istituto Comprensivo Santa Lucia di Viale Teogrito si celebrerà la giornata nazionale per la legalità e quest'anno in anticipo di due giorni per motivi organizzativi con le scuole. Saranno presenti le massime autorità civili, militari e religiose della città, nonché l'amministrazione attiva con il sindaco e gli assessori alle politiche culturali, alla pubblica istruzione, all'ambiente e allo sviluppo tecnologico e ai sistemi informativi Alessandro Sgembari. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria, le 14 scuole partecipanti saranno rappresentate ognuna da tre studenti accompagnati dai loro docenti e referenti. In quella sede verranno comunicati alla Commissione Toponomastica Cittadina i nominativi delle cinque vittime sconosciute della mafia, scelte dopo le consultazioni che sono svolte in tutte le scuole con la partecipazione di oltre 5.000 studenti.